Cari giovani, miei cari amici e amiche della Repubblica Ceca, voglio soltanto salutarvi e dirvi che fra poco ci vedremo. Sono qui nella Slovacchia adesso, abbiamo finito una bellissima visita e sono sicuro che sarà così bella anche con voi. Preparatevi, preparate il cuore, specialmente per trovarci, per condividere e già da questo momento un grande abbraccio, un grande saluto e vi raccomando, dobbiamo vederci, dobbiamo trovarci. Ciao carissimi, Dio vi benedica. Ciao, bye bye.